Al bar Colosseo di Corso d'Ortona mangio un panino piccante. La panista non è bella ma è bella, ha gli occhi in un certo modo e le spalle. Non mi ha chiesto cosa voglio da bere col panino e gliene sono grato, non avrei saputo dirle di no. Avrei preso una inutile bibita, io non bevo nulla mentre mangio solitamente. Tra due colonne al centro hanno messo un asse ricavando un tamolino alto con quattro alti sgabelli metallici tubolari. Uno col sedile rosso e tre col sedile grigio. C'è calma, la panista legge un libro in tenta dietro il palco. Da un video vengono canzonette a basso volume, per fortuna in inglese. Così non mi prende un estraneo filo di parole che mi disturberebbe. Mai saputo ignorare una radio accesa, mi porta via. O là è entrata una ragazza, la panista le fa un cartuccino. Fuori comincia a scendere la sera. Qui, questa luce bruna, gli scapelli alti, il tavolino, le briciole sul tavolo, sono armonico con la realtà, sereno. Poi emergono i stanze. Grazie.